Ben trovati amici di TG Architettura, iniziamo con i grattacieli. Sono in calo quelli costruiti in un anno. Secondo quanto rivelato dal report annuale del Council on Tall Buildings, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 sono stati realizzati solo 66 edifici al di sopra dei 200 metri, dato in calo se si paragonano gli 82 del 2011 e i 70 del 2010. I dati confermano in questo modo l'impatto della crisi economica sul settore delle grandi costruzioni, ma per il 2013, complici tanti progetti che saranno completati, è previsto un nuovo record. Noi aggiungiamo che, come sempre però, i record maggiori per quanto riguarda l'altezza dei nuovi progetti saranno sempre di più registrati nell'est del mondo e sempre meno in occidente. Andiamo a Tokyo, appunto. Una spirale formata da colonne di cemento irregolari, inframmezzata da finestre e dalla forma complementare. Parliamo della struttura destinata a ospitare il laboratorio di ricerca chimica Spiralab, realizzato dallo studio giapponese Kino Architects. In un'area industriale nei pressi della Baia, l'edificio è caratterizzato da un blocco principale dalla forma U, con un taglio orizzontale in mezzo, che determina la distribuzione e l'organizzazione degli spazi interni, distribuiti in modo da muovere e tornare ad un unico punto focale dove collocata la reception. Un progetto quantomeno suggestivo, quello degli studi danesi Tradi e Nature e PK3, che hanno progettato una serie di isole artificiali, destinate a trasformare il porto di Copenhagen in un'area accessibile alla cittadinanza. Anche per questo le isole, che sono parte di un piano più ampio chiamato Blue Plan, che copre cinque aree differenti dell'area portuale, svolgono il ruolo di basi militari marittime tra il XVI e il XVII secolo e vengono reinventate sulla base di attività dedicate in grado di caratterizzarle. In questo modo ce n'è una votata allo shopping, una alla cultura, una allo sport e così via. Per far ripartire il mercato degli immobili in Italia sono in corso tavoli tecnici con associazioni di settore e strutture pubbliche e private. Tra i tavoli c'è anche quello del Ministero dello Sviluppo Economico, dedicato ai mutui per le famiglie. L'obiettivo del pacchetto di misure è agire positivamente sia sul lato della domanda che dell'offerta. Il patrimonio residenziale italiano ammonta quasi 6.400 miliardi di euro, un valore che è circa 4,2 volte il PIB nazionale italiano.